Palazzo Chigi ha spese anche tue, ha spese di tutti noi. Comunque io vorrei dirvi che secondo me a un certo punto i giovani in questo nostro paese che sono penalizzati su tutti i fronti arriveranno con i forconi a un certo punto perché non è possibile vivere in un paese dove ci sia un'assenza così forte di regole e di cultura delle regole e che tutto questo venga minimizzato. Io sono indignata Maurizio Belpietro, tu dici che in fondo così fanno tutti è normale e io penso che intanto non facciano così tutti e due penso che il potere debba rispondere a delle regole di trasparenza, di accountability come si dice nel mondo anglosassone cioè che bisogna rendere conto visto che si occupa una carica pubblica e questo succede in un paese civile. Tutta questa palude, questa melma che sta venendo fuori in questi giorni non è molto rassicurante per il nostro paese e per il futuro dei nostri figli e dei giovani soprattutto in questo paese. No Maurizio? Io adesso non... Con questo ho espresso la mia opinione ma sono sicura che tanti italiani la pensano come me. Il malcostume di cui abbiamo parlato prima c'è, non è una novità, ma non nasce ora. Nasce in 60 anni di storia della Repubblica. Ma è un po' peggiorato però negli ultimi anni. Il sistema è in questo modo e quindi, no, non credo che sia peggiorato. Basta ripassarsi un po' di storia patria per scoprire che non era isolato. Non è isolato ed è sempre stato così. Questo non vuol dire che non lo si debba cambiare. Va benissimo che lo si debba cambiare ma allora lo cambiamo davvero fino in fondo e per tutti. Sai in che cosa secondo me è cambiato? Nel fatto che ai tempi della Prima Repubblica si facevano affari magari per fare politica, cioè per finanziare i cosiddetti costi della politica. Oggi ho l'impressione che si faccia politica per fare affari, cioè per realizzare degli interessi. Non ho nessuna difficoltà a riconoscere che Belpietro ha ragione quando dice che è un problema che riguarda l'intero sistema, però proprio perché ce ne dobbiamo preoccupare dobbiamo saper distinguere le responsabilità all'interno di questa degenerazione del sistema. C'è un malcostume che oggi emerge e non possiamo turarci il naso e fingere che non ci sia il tombino maleodorante perché quello c'è e dipende da questa degenerazione del sistema di potere che è un antistato, attenzione, è un antistato, è un lobbismo di Stato. Io devo chiudere, grazie Maurizio Belpietro, direttore di Libero, grazie Giovanni Valentini, editorialista di Repubblica, grazie alle spettatrici, agli spettatori e adesso vi lascio a un bellissimo film che si chiama Balla coi luffi. Arrivederci, noi ci vediamo come sempre domani, 8 e mezzo.